La matematica non è una priori, fratello mio caro, tu mi hai fatto passi conto, hai bisogno di un ragioniere, sei ignorante. Ma quando verrei a pagare? Ma è difficile dirlo a priori perché non c'ho... Ehi, superi giù, insomma. E se lei non segue i miei consigli, alla fine pagherai il doppio, mi creda. Carissimi amici, bentornati all'appuntamento con il consulente a portata di mano. Oggi continuiamo a parlare di dichiarazioni del reddito, di modello 730 e in particolare di onere deducibili e onere detraibili, cioè quelle spese su cui è possibile ottenere degli sconti o una riduzione delle tasse che poi andremo a pagare, la famosa IPEF sulla dichiarazione del reddito. Ecco, sappiamo che il fisco consente di ottenere degli sconti, appunto, delle tasse, quindi sulle imposte che sono dovute al fisco, scaricando appunto da quelle che sono poi le tasse che andremo a pagare nel mese di maggio, giugno o nell'acconto di novembre, di tutte quelle spese che sono considerate di particolare rilevanza sociale perché appunto vengono affrontate per la famiglia e per la casa. Tra le principali spese che è possibile scaricare dalle tasse, sappiamo benissimo che ci sono le spese sanitarie, quindi tutto quello che ruota attorno alle spese mediche, poi ci sono le tasse scolastiche, ci sono gli interessi del mutuo e così via. Però prima di adentrarci nel mondo di queste, per fare anche una panoramica su queste spese, su cui è possibile poi recuperare qualcosa dalle tasse, bisogna fare una distinzione molto importante in due categorie. Infatti il fisco prende in considerazione gli oni detraibili e gli oni deducibili. Gli oni detraibili sono tutte quelle spese che poi è possibile ottenere, quindi uno sconto, direttamente dall'imposta netta che dovremo andare a pagare nel nostro 730, nella nostra dichiarazione dei redditi. Poi invece ci sono gli oni deducibili, cioè sono tutte quelle spese che invece permettono una riduzione direttamente dell'imponibile, quindi del reddito, su cui poi andremo successivamente a calcolare le nostre tasse. Quindi c'è una netta distinzione tra oni detraibili ed oni deducibili. Adesso entriamo proprio nel dettaglio per vedere quali sono effettivamente queste spese, che quindi è possibile scaricare dalle nostre tasse. Però anche qui bisogna fare una sorta di distinzione prima di addentrarci in questo mondo, perché sappiamo che queste spese possono essere sostenute direttamente dal contribuente, però per i familiari che sono fiscalmente a carico. Quali sono i familiari che il nostro fisco intende come familiari a carico? Innanzitutto sono tutti quei familiari che vivono assieme al contribuente e che hanno un reddito annuo inferiore a 2.841,51 euro. Da qualche anno c'è una particolarità per tutti invece i ragazzi che ancora vivono in famiglia inferiori a 24 anni e quindi in questo caso il reddito per rimanere familiare a carico è elevato a 4.000 euro, quindi soltanto ed esclusivamente per i ragazzi che ancora vivono all'interno del nucleo familiare a condizione che abbiano un'età inferiore a 24 anni. Per quanto riguarda i familiari che vengono considerati a carico sono il conge, quindi non legalmente o effettivamente separato, e quindi figli anche quelli adottivi che sono affidati o affiliati, indipendentemente dal fatto che siano titolari di reddito o comunque che studiano o comunque che abbiano un tirocino gratuito. Tra l'altro possono essere considerati familiari fiscalmente a carico anche altri familiari a condizione comunque che vivono, che convivono all'interno del nucleo familiare con il contribuente. E quindi parliamo del conge legalmente ed effettivamente separato, anche se comunque viva all'interno del nucleo familiare, oppure i discendenti dei figli, i genitori compresi quelli adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, e poi i fratelli e le sorelle anche unilaterali e i nonni e le nonne. Comunque questo discorso vale fino al 31 dicembre del 2021, quindi per i familiari a carico, quindi nella prossima dichiarazione reddito che faremo nel mese di maggio o di giugno del 2022, perché è riferita al 2021, quindi a quest'anno, perché come abbiamo già affrontato l'argomento in una puntata scorsa, dal 1 di gennaio del 2022 entrerà in vicore l'assegno unico per la famiglia che comprende il famoso ANF, l'assegno per il nucleo familiare, però contempla anche le detrazioni per il familiare a carico. Bene, adesso entriamo a fare una panoramica di questi onni deducibili per cui è possibile poi ottenere uno sconto dalle tasse o addirittura un rimborso nel famoso modello 730. Vediamo per esempio quali sono quelle spese che vengono affrontate quando si possiede una casa e quelle che vengono affrontate per la casa. Quindi se per caso il contribuente o il nucleo familiare è in affitto, sappiamo che il fisco contempla una detrazione di 300 euro se comunque il reddito complessivo non supera, quindi è inferiore a 15.494 ed è di 150 euro. Se invece il reddito complessivo è compresso tra i 15.494, ma è comunque inferiore a 30.987, allora in questo caso la detrazione si riduce notevolmente, quindi c'è un calcolo particolare in proporzione al canone di affitto. Poi per quando il lavoratore magari dipendente è costretto a trasferirsi in un comune vicino per motivi di lavoro, per i primi tre mesi, se comunque la distanza del trasferimento è di almeno 100 km e quindi comunque in una regione diversa quella di appartenenza, allora è contemplata una detrazione di 992 euro naturalmente annui, se il reddito complessivo comunque è inferiore a 15.494. Se invece questo reddito è superiore a 15.494, ma comunque è inferiore a 30.987, allora questa detrazione viene dimezzata e quindi è soltanto di 496 euro annui. Poi ancora per quanto riguarda tutti i giovani inquilini che abbiano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni che si trasferiscono dall'abitazione principale dei genitori, per i primi tre anni è compresa una detrazione anche in questo caso di 992 euro, però sempre a condizione che il reddito sia inferiore a 15.494. Questo naturalmente quando l'immobile, la casa in cui dimora l'abitazione principale non è di proprietà. Se invece siamo proprietari di un immobile e quindi abbiamo magari contratto mutuo per l'acquisto dell'immobile, allora sappiamo che c'è una detrazione degli interessi passivi che paghiamo all'istituto di credito. In questo caso è possibile detrarre il 19% quando abbiamo acquistato la nostra prima casa, quindi l'abitazione principale, fino a un tetto massimo di 4.000 euro. Invece per quanto riguarda un eventuale mutuo per una costruzione o comunque una ristrutturazione sempre della prima casa, allora è possibile detrarre il 19%, ma il tetto massimo degli interessi che possiamo scaricare è di 2.582 euro. Poi, come abbiamo già accennato nelle scorse puntate, magari quando abbiamo acquistato l'immobile e ci siamo avvalsi della collaborazione di un intermediario immobiliare, allora anche in questo caso è possibile scaricare la somma del 19% fino a un tetto massimo di spesa di 1.000 euro. Poi, per quanto riguarda tutte le spese che vengono sostenute per la famiglia, quindi mi riferisco per esempio all'abbonamento al trasporto pubblico, è possibile detrarre la somma sempre del 19% per una spesa massima di 250 euro all'anno per quanto riguarda tutti gli abbonamenti ai mezzi pubblici, locali, regionali e interregionali. Poi sappiamo anche che è possibile detrarre le spese assicurative, anche in questo caso le spese che rientrano nel 19% per quanto riguarda quei premi pagati per l'assicurazione sulla vita oppure l'assicurazione contro gli infortuni e il rischio non autosufficienza, però per un limite massimo di 530 euro oppure di 2.291 euro in base al tipo di polizia che viene contratto con l'Istituto di Assicurazione. Poi sappiamo che ai contributi previdenziali ed assistenziali anche in questo caso è possibile ottenere una deduzione dell'imposta quindi per i contributi versati per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori agricoli oppure i contributi versati per una ricongiunzione oppure il famoso fondo per le casalinghe o il famoso riscatto dell'anno di Laura, quindi una deduzione che va dal 23 al 43% in base al reddito conseguito nel 2021. Nel caso per esempio invece del riscatto di Laura, questo altrimenti deve essere per un familiare a carico e quindi in questo caso spetta la deduzione del 19% dell'importo che si è pagato per il riscatto di questo anno di Laura. Poi per quanto riguarda quando magari nel luogo familiare c'è la presenza di una colfa o di un abbatante i contributi che vengono versati all'Inves per questa abbatante o per la colfa è possibile detrarli nella misura massima che va dal 23 al 43% sempre naturalmente in base al reddito però fino al massimo di importo pagato di 1.549,37€. Poi anche l'assegno in caso di separazione che viene corrisposto all'ex connoge anche in questo caso c'è una deduzione dell'imposta che va dal 23 al 43%, sempre in proporzione al reddito, dell'intero importo che viene pagato all'ex connoge quindi naturalmente questo deve essere disposto dall'autorità giudiziaria competente in caso di separazione. Poi anche le spese funibili, in questo caso è possibile defalcare il 19%, quindi scaricarlo dalle tasse per ottenere un rimborso o comunque una riduzione dell'imposta quindi anche in questo caso il 19% su una spesa massima per ogni familiare defunto fino a un massimo di 1.550€. Poi per quanto riguarda i figli che sono comunque fiscamente a carico anche in questo caso ci sono tantissime deduzioni dall'imposta per esempio le rette per l'asilo nido, sia pubblici che privati è possibile detrarre il 19% su una spesa massima di 632€ per ogni figlio a carico. Poi le spese di istruzione, anche in questo caso sappiamo che comunque notoriamente si possono detrarre dalle nostre tasse e quindi anche in questo caso per quanto riguarda la frequenza di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per un importo che va fino a 800€ è possibile detrarre il 19% e tra l'altro rientrano in questa voce però soltanto se vengono deliberate dall'istituto scolastico in funzione della frequenza anche le spese che vengono sostenute per le gide scolastiche, per l'assicurazione e per i contributi che sono finalizzati all'amplimento dell'offetta formativa. Poi in caso di frequenza dell'università, anche in questo caso le spese, le tasse scolastiche possono essere detratte nella misura del 19% a condizione che l'università sia statale o comunque riconosciuta dal MIUR. Anche in questo caso c'è un tetto massimo del 19% per una somma massima di 2633€. Poi per quanto riguarda gli studenti che sono con una diagnosi di DSA quindi un disturbo specifico dell'apprendimento è possibile detrarre la somma del 19% per l'acquisto di strumenti che sono utili all'apprendimento però fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Poi per quanto riguarda la frequenza delle attività sportive dei nostri ragazzi anche in questo caso il fisco contempla una detrazione d'imposta del 19% per una spesa massima di 210€ per ogni figlio che abbia un'età compresa tra i 5 e i 18 anni. Poi per terminare questa panoramica degli onni deducibili e degli onni detraibili tutte, come abbiamo già accenato, le spese sanitarie possono essere detratte dalle nostre tasse nella misura del 19% però c'è una franchigia di 129,11€ quindi per i primi 129,11€ non è possibile detrarre nulla ma per la parte eccedente a questa somma è possibile detrarre il 19% e poi anche per quanto riguarda le spese veterinari quelle che vengono affrontate per la cura del nostro animale domestico anche in questo caso è possibile detrarre il 19% fino a un tetto massimo di 500€ e anche in questo caso come per le spese sanitarie è prevista una franchigia di 129,11€ quindi per la parte eccedente è possibile detrarre questa piccola quota. In caso per esempio invece di disabilità è prevista una deduzione d'imposta che varia dal 23% al 43% sempre per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare per quanto riguarda tutte le spese mediche che sono generiche o comunque per un'assistenza specifica che vengono sostenute nell'interesse proprio o di un familiare convivente e poi è possibile anche detrarre ancora il 19% per tutte quelle spese che consentono una facilitazione dell'integrazione e dell'autosufficienza per esempio mi riferisco all'acquisto di mezzi che sono necessari magari all'accompagnamento, alla deambulazione, all'acquisto di veicoli e magari tutti quei siti tecnici informatici oppure quelle spese per abbattere le barriere architettoniche oppure per esempio ancora l'accompagnamento dell'ambulanza i servizi di interpretariato in caso di sordità oppure l'acquisto e il mantenimento di cari guida per quanto riguarda i non vedenti e ancora è prevista una detrazione del 19% per tutte le spese per gli addetti all'assistenza personale quindi per quanto riguarda le badanti in caso di non autosufficienza però su un detto massimo di 2100 euro per ogni contribuente bene per oggi è tutto torneremo ancora su questo argomento per entrare ancora nei dettagli per quanto riguarda le possibilità di scaricare qualcosa dalle tasse che andremo a pagare nel 2022 grazie alla prossima la matematica non è una priori oh fratello come io caro tu mi fatti passi conto hai bisogno di un ragioniere sei ignorante ma quando verrei a pagare? ma è difficile dirmi a priori perché non c'ho ehi so pari giù in so e se lei non segue i miei consigli alla fine pagherà il doppio mi creda mi creda